Una giunta tematica intanto in un'oasi come Location, la scelta e poi che cosa è emerso da questa giornata? Avevamo bisogno di metterci al riparo della velocità esterna, anche del rumore che ci impone il secolo, si direbbe, tra i padri passionisti, per concentrarci e raccoglierci in approfondimento e questo è intervenuto. Abbiamo stabilito la metrica delle priorità e come allineare il contributo migliore della politica al contributo migliore della tecnica, dell'amministrazione e dei funzionari. Abbiamo precisato che ci doteremo di una legge obiettivo regionale, abbiamo stabilito le prime cinque grandi questioni delle quali ci occuperemo da adesso e per i prossimi tre mesi. Siamo molto soddisfatti anche perché ho visto un coinvolgimento rilevante dei capi di partimento e dei dirigenti. Soprattutto abbiamo precisato che chi comanda è l'utenza della cittadinanza. C'è stato un grande rischio per la Regione che la Regione perdesse di vista l'utenza e che rischiasse addirittura di trovare come utenza o i propri dipendenti o la comunità politica. Dei cinque punti da dove partirete? Il primo è il completamento del piano di risanamento della sanità abruzzese, il completamento del piano di rientro per fare in modo da riguadagnare la nostra autonomia decisionale e programmatoria. Il secondo è fare sì che in Abruzzo si edifichi la Regione più facile d'Europa per quanto riguarda gli investimenti degli imprenditori, scommettendo molto sul digitale, dematerializzando il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione. La terza, lanciare una grande vertenza per quanto riguarda gli Erasmus regionali a favore dei nostri giovani. Punto nascita di Atri? Noi stiamo determinando un riordino su questo fronte facendo in modo che anche dove si interverrà con atteggiamento riformatore, l'ospedalità che viene toccata da questo atteggiamento riformatore comunque abbia delle garanzie ulteriori per quanto riguarda per esempio la qualità del nascituro che lì interverrà. Vedrete, giudicate alla fine e vedrete che tutto migliorerà. Un progetto questo che se ne parla da anni arriverà a una concretizzazione? Assolutamente sì, perché abbiamo le risorse e la determinazione. Ha parlato di toscanizzare l'Abruzzo, perché? Perché lì c'è un buon rapporto tra la funzione della pubblica amministrazione e della politica e le aspettative delle persone, delle imprese e dei territori.